Tra il 1991 e il 2022 i salari reali in Italia sono rimasti sostanzialmente al palo con una crescita dell'1% a fronte del 32,5% in media registrato nell'area Ocse. E quanto emerge dal rapporto INAP, secondo il quale il dato è legato anche alla bassa produttività del lavoro, cresciuta comunque più delle retribuzioni. In Italia inoltre sta emergendo un altro fenomeno inquietante, ossia la carenza di lavoratori e la conseguente difficoltà dei datori di lavoro a coprire i posti vacanti. Resta importante anche il fenomeno delle dimissioni, circa 560.000 risoluzioni nel 2021.